a video con grande piacere diamo il benvenuto a marco e mario in rappresentanza dei queen lizard ciao ragazzi ciao siete quanto al 50 percena qualcosa in meno rispetto al gruppo intero perché gli altri due valgono più di noi quindi siamo al 50 mi stava sfuggendo se eravate in cinque o in quattro a quindi sono a questione di valore in due per farne quanti uno almeno uno almeno uno in realtà in rappresentanza in quanto soci fondatori insomma voi siete quelli che che avete dato il la al gruppo no che nasce nel 2016 nasce in un modo piuttosto paradossale perché ci siamo messi insieme per suonare a un matrimonio di un nostro amico quindi proprio il peggio del peggio l'inizio è stato drammatico però poi dopo di portata in portata fino arrivare l'open bar finale prenda tutto crescendo immagino beh innanzitutto come succede spesso per un gruppo questo questo nome è stato così deciso l'ananimità chi ha avuto l'idea perché soprattutto questo lucerto la significa lì si è stato deciso l'unanimità al che siamo partiti con un nome diverso nel senso che avevamo iniziato con il nome desert shore che è il nome del titolo di un disco di nico poi per vari motivi abbiamo cambiato il nostro ex batterista va proposto questo nome che fosse un po più un po più potabile ecco un po più e siamo andati avanti con quello voi avete inciso il il vostro primo album nel 2019 sì 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 e quello è stato l'esordio ufficiale diciamo sì 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 anche se la formazione era leggermente diversa perché poi per impegni personali la prima cantante il batterista ci hanno lasciato insomma siamo sempre in ottimi rapporti ma insomma per far sopravvivere il progetto abbiamo chiesto aiuto e ci hanno aiutati claudia pisani che la nuova cantante e lorenzo capello il nuovo batterista sono entrambi molto esperti e siamo contenti che ci stiano dando una mano il titolo del album arriva da 1 perfetto Sì, viene fuori da una poesia di Olderlin e questa poesia il poeta proprio usa queste parole Heilig che vuol dire santa in tedesco e luna in italiano e mentre leggiamo questo testo ci sembrava interessante questa parola non ha un significato preciso però ci sembrava un bel titolo per un disco avevamo deciso di usarlo e facciamo spesso riferimenti ai libri che leggiamo perché siamo tutti e quattro lettori quindi a volte viene fuori Kafka, a volte viene fuori Olderlin insomma quello che leggiamo ci ispira e lo mettiamo nei titoli, tutto qua Poi Mario è piuttosto modesto però in realtà insegna lettere Potevi non dirlo questo perché adesso mi crea quell'ansia dell'interrogazione Non può succedere, non succederà Temo il voto finale sperando non nella nota Guarda io insisto tutti i giorni i miei studenti a non concentrarsi né sui voti né sul discorso, l'aspetto repressivo della disciplina per cui cerco di fare appello al loro interesse senza dover ricorrere alla disciplina perché a volte è un mezzo brutale per tenere in riga i ragazzi quindi cerco di usare metodi diversi, quindi non succederà Ti ringrazio, anche perché in merito a questo discorso penso che sia la formula magica perfetta quando si può attuare il coinvolgere i ragazzi e farli appassionare piuttosto che a doverli minacciare di brutti voti o quant'altro E voi invece dal punto di vista musicale come si è arrivati alla quadra della vostra proposta musicale? Hai detto bene, ci siamo arrivati nel senso che ognuno di noi ha un po' il proprio percorso, i propri ascolti anche piuttosto diversi per esempio il batterista ha una formazione più jazz la cantante è molto cantautorale Mario ne viene principalmente da musica indipendente inglese americana anni 90 e io ascolto un po' di tutto siamo partiti dagli ascolti adolescenziali che mi hanno messo la chitarra in mano come i Dyer Straits però poi si passa ad altri ascolti comuni per avere questo suono adesso diciamo che siamo un po' tutti approdati a questa sorta di shoegaze un po' pop le melodie sono abbastanza orecchiabili però come si ascolta anche nel mix del disco la voce ci piace più in secondo piano quindi è tutto un mix siamo arrivati come dicevi tu a questo genere un po' fondendo i gusti e le passioni di tutti un po' fondendo i gusti e le passioni di tutti Questo No Sun che è il singolo Come dicevamo di Lancia Se così vogliamo definire il nuovo album È una sorta di viaggio interiore Per trovare la capacità Di rimettersi in gioco Sì, è il viaggio interiore Che abbiamo voluto descrivere Che poi è anche quello Degli scrittori e dei poeti Nel senso, noi non siamo Né scrittori né poeti Però abbiamo cercato anche di metterci nei panni Di quei poeti, di quegli scrittori Che per Donarci la poesia Parole nuove sono dovute scendere In quella parte dell'inconscio Che è nascosta a tutti Che è un pozzo nero Un lago nero Dove l'inconscio Contiene Canzoni, pensieri Poesie Che devono essere pescate È un po' quello che succedeva Nei poeti decadenti Quando cominciano a scrivere Anche in base alle nuove scoperte Della psicanalisi Si comincia a scandagliare In una parte oscura di se stessi Si trova fuori Si tira fuori Un po' di tutto A volte cose piacevoli Armoniche A volte anche cose dolorose Questa canzone parla anche di questo Dello smarrimento Del non sentirsi mai Adeguati in nessun luogo E del cercare Di scendere a patti Anche con se stessi Questo nuovo lavoro Quanti brani contiene? Sono dodici in tutto Come Arrivate poi Alla scelta Immagino che Ce ne sono molti di più C'è una sorta di Refurendum interno Come funziona? Intanto Ci rendiamo conto Che è un album Lungo E abbiamo Del materiale Che ci è avanzato Dal primo disco Anche se molto poco Però C'eravamo legati E in più Abbiamo approfittato Del periodo Di clausura Forzata Del Del covid Per continuare a lavorare Comunque su Pezzi nuovi E Non ne abbiamo scartati molti Anzi In realtà Abbiamo Anche Riesumato Tra virgolette Un vecchio Pezzo Che era stato Scritto Per Il crollo Del ponte Morandi Noi siamo Liguri Siamo di Mia Genova E abbiamo pensato Di inserirlo Ufficialmente Nel primo lavoro E Il resto Dei pezzi Più quelli Che abbiamo scritto Sono finiti Su E Liga e Luna Comunque Insomma Un po' Esistevano già E grazie Anche al lavoro Di Claudia Lorenzo Che ci hanno aiutati A riarrangiarli Hanno dato Il loro contributo Sicuramente Al suono finale Del disco Che è leggermente Diverso dal primo Quindi Non è rimasto Tanto fuori Ma qualcosa Sì Che insomma Speriamo di Continuare a lavorare E beh Mi sembra il minimo Anche perché Insomma Parlare di album È abbastanza Inusuale Sembra Strano dirlo Però In quelli che sono Quelle che sono Le modalità attuali Prevedono Una serie di single Invece Lo dico anche Con un grande piacere Perché forse In virtù Di qualche Capello grigio E quindi Un legame Diciamo Quello che era Il famoso discorso Dell'album Fa particolarmente Piacere Parlare ancora Una volta Di album Sì Anche perché Quando c'erano Gli album Si comprava Il vinile O il cd Anche Si aveva La pazienza Di sedersi E ascoltarla La musica E a volte Il disco Durava 50 minuti 45 Poi col cd 60 Anche E adesso Si consuma E uso Volutamente Questa parola Consuma In maniera Molto più Sbrigativa Si spizzica Si ascoltano I primi secondi Di un brano Poi si passa Al successivo E spesso Sono singoli Nel senso Che non c'è Un progetto Una specie Di concept Quindi parlare Di album Con 12 10 12 brani E' diventato Anacronistico Non so Eh si perché Si L'obiettivo E' la fruibilità No Quindi Bisogna avere Una Costanza Ed essere presenti Ciclicamente Quindi E ritornare A pensare A un album E come dicevi Giustamente Prendersi Il tempo Perché poi Alla fine La musica E' piacere Quindi piace come si legge Un libro Ci si Mette un attimo Lì tranquilli Per poterla gustare Al meglio Invece di sentirlo Solo velocemente In maniera liquida Comunque ci fa piacere Che hai detto Questa cosa Perché in realtà Diverse Delle recensioni Che abbiamo avuto Gli articoli Che sono stati Iscritti Su questo lavoro Alcuni Hanno detto Proprio questo Che gli farebbe piacere Ascoltare L'album In vinile Noi per il momento Non abbiamo Abbiamo pensato Di non farlo Anche perché Eravamo un po' Curiosi Della riuscita Di questo Progetto E ovviamente Stampare i vinili Anche a un certo costo Però quando Chi ascolta Il tuo lavoro E poi dice Sicuramente è un lavoro Che meriterebbe Essere ascoltato Su vinile Ci siamo sentiti Capiti Realizzati E poi Come si dice In questi casi Mai dire mai Chissà se Il progetto Può anche Confluire in un vinile Adesso Succederà qualcosa Anche dal punto di vista Live Sì Stiamo Progettando Alcune date Dal vivo Ne abbiamo Una Carrara In una radio Lunedì prossimo Poi saremo a Modena Il 20 aprile E poi ci stiamo Ci stiamo Insomma Sbattendo per Cercare delle date Perché Anche in questo caso Non è facile Per una band Trovare un posto Dove suonare I propri pezzi Quindi non Un progetto Cover Non una tribute band Una band Che porta i propri pezzi Cantati in inglese E anche in italiano Non ha Tantissimi spazi E quindi Ci dobbiamo Dare da fare Parecchio Se vogliamo Sopravvivere Live Eh lo so Questa è una Nota dolente Perché la domanda Che immagino Vi rivolgo Non so voi Fate la musica Di chi Chi suonate Purtroppo Fa parte Purtroppo Vi facciamo Un grandissimo In bocca al lupo Lunga vita E Queen Lizard Grazie Ciao ragazzi Ciao Grazie ancora Un piacere Grazie a tutti Grazie a tutti evidence